Cittadini, buongiorno. Oggi vi comunico che mercoledì mattina riappriamo le scuole. Siamo comunque in attesa dell'ordinanza del governatore che dovrebbe uscire oggi pomeriggio, quindi a breve sapremo se la nota che mi ha già mandato il direttore generale della Zichetti dove chiede un progettamento alla zona rossa, poi dal governatore sarà confermato oppure, come tutta l'Abruzzo e così che non si vocifra, andrà a fine in zona arancione. Riappro le scuole dopo 13 giorni perché comunque questo lastitempo è servito per allentare la pressione sulle scuole che sono osservati speciali. Quindi i ragazzi devono imparare che devono mantenere le distanze, che si devono lavare le mani, che devono portare la mascherina e voi genitori principalmente dovete evitare di ammucchiarvi davanti alle scuole perché questo è un altro degli elementi che poi hanno permesso di arrivare ai dati che oggi disponiamo, il contagio. Vi comunico che comunque continueremo a fare i tamponi e quindi dovete venire anche sabato e domenica perché ho trovato i volontari che ci vengono a dare una mano, portate i ragazzi, così mercoledì quando tornano alla scuola sarete sicuri che i vostri ragazzi non sono contagiati dal Covid-19. Non riappro i parchi perché comunque è dimostrato che non riuscendo direttamente a mantenere i vostri atteggiamenti e evito anche di farveli perpetrare. Quindi i parchi non li riapro, vi apro i cimiteri perché comunque diciamo che in un ambiente così circoscritto è possibile con una particolare attenzione quindi con i volontari potremo mantenere le distanze nei cimiteri. Penso che andiamo verso la strada giusta. Ho ascoltato il dottor Giardinelli che a vero ascolterete anche voi che è un parere autorevole sulla questione San Giovanni Teatino. Cittadini, buongiorno. Qui davanti a voi c'è il dottor Alessandro Giardinelli, responsabile medico del centro vaccinale di San Giovanni Teatino e se guardate bene la persona che vaccina i nostri figli qui a San Giovanni Teatino, ne è uno che conosce bene la nostra realtà, conosce bene a livello clinico la questione epidemiologica, ho chiesto un consiglio a lui su come organizzarmi sulla riapertura delle scuole e che cosa pensa di quello che si potrebbe fare a San Giovanni Teatino per cercare di riuscire il primo possibile da questa emergenza sanitaria. Buongiorno a tutti, viviamo in un momento difficoltoso e quindi devono essere prese assolutamente delle precauzioni a livello sociale per contenere la pandemia. Sappiamo che adesso ogni settimana c'è un 20% di più dei ricoveri ospedalieri con una saturazione ormai degli ospedali sia quello di Pescara sia quello di Chinti. Bene hanno fatto i comuni che hanno fatto lo screening per scovare gli asintomatici perché gli asintomatici sono coloro che senza sintomi però purtroppo diffondono il virus nella nostra società. E credo che sia stata anche opportuna la chiusura delle scuole perché come sappiamo sono i giovani che purtroppo essendo loro stessi in gran parte sintomatici portano il virus nelle famiglie. Rivolgo proprio soprattutto ai giovani, cercate di usare tutte quelle precauzioni perché siete proprio voi che riuscirete con il vostro buon comportamento a evitare che il contagio si diffonda ancora di più. Io chiedo a tutti quanti anche ai genitori di comportarsi, di insegnare ai loro figli quando sia importante il loro comportamento perché il comportamento dei giovani può significare meno morti nei nostri cittadini. Quindi mettiamoci al lavoro, lavoriamo l'uno per l'altro, difendiamo ognuno la vita degli altri. Ha l'intenzione di riaprire mercoledì perché c'è un ponte, quindi evitare anche nel giorno di carnevale di far uscire i bambini di casa perché voglio ricordare che se dovessimo rimanere in zona rossa si esce per motivi di lavoro, di salute o di problemi urgenti. Per il resto i ragazzi devono stare a casa e quindi purtroppo devono stare a casa e quindi solo così riusciamo a contenere. Pertanto credo che mercoledì possa essere una data giusta. Sì, concordo con questo. Ricordiamo che anche gli assembramenti vanno evitati, fuori dalla scuola. Della scuola soprattutto, anche perché oggi i malati sono portatori al 50% della variante inglese che è molto contagiosa e quindi assembramenti, scuole, pranzi, feste eccetera vanno evitate comunque. Speriamo che il Comitato Tecnico Scientifico tra qualche settimana ci darà buone notizie di tutto questo lavoro che adesso stiamo facendo. Grazie tanto dottore e buona giornata. Grazie.